Sceneries è la prima personale italiana di Tina Gillen, una serie di dipinte astratti esposti nella galleria di Isabella Brancolini sull'Ungarno Acciaioli. Una prima italiana che arriva a Firenze dopo essere passata per Belgio, Germania, Svizzera e Francia. Tina Gillen esplora il mondo della caccia attraverso uno stile astratto e semplificato. Case, paesaggi urbani ed artificiali si ritrovano come icone isolate, avvolti in un'atmosfera misteriosa. La mostra è aperta fino al 16 novembre, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sceneries. Corinne Pampist C10. Grazie.